Anche a Siracusa quest'anno l'Influ Day, una giornata dedicata alla promozione della vaccinazione anti-influenzale su tutto il territorio siciliano con l'obiettivo di migliorare tra i cittadini la percezione del valore della prevenzione vaccinale. Pubblicizziamo la necessità di fare il vaccino anti-influenzale e ne approfittiamo anche per pubblicizzare l'opportunità di fare il vaccino contro il Covid. E' possibile farli entrambi anche nei nostri ambulatori, in tutti i nostri ambulatori non ci sono file, non ci sono costi. Rientra ovviamente come sapete nell'ambito dei percorsi della prevenzione, anzi oggi è diventata tra virgolette un'emergenza prevenzione perché la diffusività del virus fa sì che causa almeno due problemi. Uno sociale perché tutti i soggetti fragili possono avere conseguenze importanti e l'altro che è una conseguenza indiretta ma per noi importante che è la diffusione della malattia a causa sui posti di lavoro, sui luoghi di lavoro. Quindi invitiamo tutta la popolazione a fare il vaccino. Si possono rivolgere nei diversi punti che sono pubblicizzati sul sito aziendale, nei nostri poliambulatori che si trovano in tutto il territorio della provincia e anche nelle farmagie convenzionate e anche ai medici di famiglia. Ovviamente basta guardare il sito e tutti quanti possono vedere quali sono i punti e quali sono i giorni in cui le vaccinazioni si possono fare. Ovviamente la popolazione elitaria che è destinataria della vaccinazione anti-influenzale è quella over 60 anni e con particolare riguardo ai soggetti fragili, quelli portatori di patologia per i quali a volte la vaccinazione non rappresenta un atto di prevenzione ma addirittura di cura. Ricordiamoci i soggetti con broncopneumopatia che il problema ovviamente che colpisce di più sono i polmoni e quindi per loro rappresenta una vera e propria cura. E poi tutti gli altri soggetti, le donne in gravidanza, i bambini per i quali si sta registrando nelle regioni del nord del nord con un più alto livello di incidenza proprio nei soggetti di età giovanile. E poi ovviamente è rivolta a tutte le categorie socialmente utili, quindi la pubblica sicurezza, gli operatori sanitari che è fondamentale perché, come diceva già il direttore, la vaccinazione, l'influenza ha una doppia dimensione. La dimensione individuale che quindi serve per la protezione della persona, soprattutto come dicevo per i soggetti a rischio ma anche una dimensione di popolazione comunitaria perché se raggiungiamo quella che viene detto normalmente immunità di gregge ovviamente così noi diamo anche un valore sociale alla vaccinazione in termini di ricorso alle cure mediche, di ospedalizzazione e quindi di impatto sul servizio sanitario. Vorrei solamente aggiungere due cose, uno che più le persone si vaccinano più si raggiunge il valore della protezione perché la bassa percentuale non garantisce una buona copertura a tutto il territorio quindi l'immunità di gregge di cui parlava la dottoressa Contrino è un target importante per cui l'invito e lo stimolo a tutti a vaccinarsi. E poi abbiamo anche un decreto dell'assessorato regionale che anche se la popolazione target sono gli ultra 60 anni poi apre le maglie a tutto il resto della popolazione che dai lavoratori agli esposti, ai militari, a chi fa servizio pubblico bene o male, alle scuole e ci entrano un po' tutta la popolazione. Quindi questo ci permette di raggiungere maggiori coperture e quindi un buon target e un buon risultato in termini di qualità di salute pubblica.